Salve ragazzi cari amici del web, sono Andrea Bruno, già oggi a Pontianak nel Borneo indonesiano vi avevo fatto vedere un edificio adibito al culto cristiano in costruzione, bellissimo e come si evince da queste immagini anche la parte islamica della città non ha voluto essere da meno e alla costruzione di una vera e propria regia perché questo edificio è veramente molto imponente è un edificio che già dispone qui di un minareto qui a fianco, molto bello poc'anzi si sentiva la voce del Muzzin e con questa bellissima inquadratura di un cantiere in corso vi lascio alla prossima peccato che questi monumenti non sono finiti, sarebbero stati veramente belli e interessanti da ammirare comunque niente, io tornerò in questo bellissimo posto, sicuramente nel Borneo ci ritornerò e vi saluto, continuate a seguire i miei videoclip, ve la do io l'Indonesia ciao ragazzi